Questa sera l'annuale appuntamento con la presentazione del Sussidio Quaresima per i Fannulloni alla Scuola dei Santi, alla presenza del Vescovo di Acireale Monsignor Antonino Raspanti, dell'Arciprete Paroco della Basilica Cattedrale di Acireale Don Mario Freste e della Docente Mariella Di Mauro. A moderare l'incontro il giornalista Mario Agostino, intermezzo musicale curato dai Quinquens Domina Ensemble, diretti dal maestro Vera Pulvirenti. Incontro questo promosso da Fidapa, Kiwanis, Lions Club, Rotary, Serra.